ho comprato un aspiratore gemmi vi sto facendo vedere il cammino in funzione con la ventola accesa è impostato su una velocità per il momento come potete vedere e non mi dà alcun problema di fumo neppure durante l'arrosto quando c'è parecchio vento massimo impostato una seconda velocità e quindi non ho più problemi di fumo nella mia casa ora sto andando in soffitta per farvi vedere come ho installato il tirafumo sul comignolo e a una scatolina da installare esternamente e comunque si è facile da installare tramite il sistema di staff che si regola in base alla grandezza del comignolo ma è molto pratico